Chiede una strada intitolata ai fratelli Ferdinando e Renato Valle e lo fa per ricordare chi creò a Roccaraso la prima scuola di sci riconosciuta dalla Federazione Italiana. A scrivere una lettera al primo cittadino Francesco Di Donato e ai suoi compaesani roccolani, lo storico Ugo del Castello, che grazie alle sue ricerche e al materiale reperito, ha dimostrato che la scuola di sci più antica d'Italia si trova in Abruzzo, per opera di due ampezzani. Mi sono permesso, sottolinea del castello, di suggerire all'amministrazione il completamento delle opere di urbanizzazione relative all'area in via di edificazione della cooperativa Monte Tocco, con la strada che la congiugera ai fabbricati retrostanti e che potrebbe portare il nome di via Ferdinando e Renato Valle. Questa intitolazione continua restituirebbe alla nostra località turistica quella dignità storico-scistica che gli compete. Dobbiamo assolutamente prendere la palla al balzo e dimostrare che noi in Abruzzo non abbiamo nulla da invidiare alle località scistiche del nord. Questo è dimostrato dei fatti, conclude, ed è arrivato il momento di fare un passo in avanti per far capire che abbiamo non solo le nostre montagne e le nostre scuole, ma abbiamo anche la storia dalla nostra parte. Del castello invita a sfruttare il momento perché instaurare un rapporto di vicinanza che potrebbe culminare con un gemellaggio significherebbe dare risalto a due mondi lontani, con culture sicuramente diverse, ma accomunati dalla neve, dallo sci e dai fondatori. Grazie. Grazie.